nuovo programma per stefano de martino su rai 2 la seconda rete ha confermato con questa mossa la volontà di puntare sul ballerino dopo avergli affidato prima made in sud e dopo stasera tutto è possibile il secondo dei due programmi inoltre è passato nelle sue mani dopo essere stato portato al successo da amadeus che si è dedicato al festival di san remo ma quello che succederà adesso è qualcosa di più perché stavolta stefano pare abbia avuto carta bianca per tornare a condurre su davide maggio ha svelato che stefano de martino condurrà bar stella su rai 2 il programma è nuovo per questo il nome non dirà nulla la maggior parte del pubblico ai fan storici e più affezionati di stefano invece il nome della trasmissione suonerà familiare perché non è stato scena così si chiamava infatti il bar del nonno di de martino lo stesso in cui il ballerino si esibiva da bambino come dimostra un video che ha pubblicato sui social lo scorso anno nel video in questione c'è un tenero stefano da bambino che balla nel locale del nonno era il 1994 e lui aveva il bar stella è probabilmente uno dei luoghi del cuore di de martino per questo ha deciso di chiamare così il suo nuovo programma in seconda serata su rai 2 il nome rispecchia anche la natura della trasmissione che porta la firma di stefano al 100 per ci saranno tanti ospiti e amici del conduttore dovrebbe andare in onda a partire da dicembre in seconda serata come già specificato per il momento pare siano previste solo due puntate ma non è detto che non venga rinnovato in seguito un paio di anni fa stefano de martino aveva raccontato in una intervista a radiocorriere tv di ispirarsi a una televisione che ormai si vede poco lui è appassionato della tv di un tempo quella con cui è cresciuto e in cui si rispecchia di a tal proposito aveva detto sono cresciuto televisivamente con renzo arbore guardo spesso trasmissioni realizzate prima che io nascessi come canzonissima ecco è quella la tv che amo e che spero ritorna visti i suoi desideri è facile pensare che bar stella di stefano de martino su rai 2 si ispirerà alla tv di un tempo